Alberto Bollini saluta. Ultimo allenamento per lui e il suo staff tecnico, ultima giornata leccese, anche se l'allenatore Mantovano ha un altro anno di contratto. Certo che se la famiglia Tesoro dovesse decidere di rimanere ancora al timone della società giallorossa, sarà lui la guida della prossima squadra. Ma questa appare al momento in ipotesi molto remota perché le intenzioni dei Tesoro sono quelle dichiarate nella conferenza stampa di febbraio e fino a nuovo aggiornamento bisognerà ragionare su quelle. Intanto il patrone ha avviato degli incontri con alcuni calciatori per discutere il futuro degli stessi e trovare in alcuni casi accordi di fine rapporto. Un passo utile anche per rendere meno alto il monte in gaggi ed eventualmente più agevole il subentro ad eventuali nuovi acquirenti. Un capitolo questo che sarà affrontato probabilmente nei prossimi giorni quando Savino Tesoro potrebbe convocare una conferenza stampa per aggiornare sui possibili sviluppi della cessione societaria nella consapevolezza che il passaggio debba avvenire nel più breve tempo possibile per affrontare anche le prime scadenze cui la società vecchia o nuova è chiamata ad assolvere. Ma al momento non sembrano esserci novità di rilievo a meno che gli step che Savino Tesoro sta affrontando non siano un percorso obbligatorio per agevolare appunto il subentro di nuovi proprietari. Sembra essersi raffreddata del tutto la pista che portava Massimo Ferrero, patrona della Sampdoria, però si ricorderà che anche l'acquisto della società blucerchiata fu un fulmine a ciel sereno. Quindi non sono esclusi i colpi di scena e non è da escludere neppure che questo sia un piano attuato da Tesoro per sfoltire la Rosa e procedere con la costruzione della successiva. Mentre il campionato di Lega Pro vive la coda dei play-off e dei play-out è già tempo di mercato. In questo campo non c'è da perdere tempo se si vuole anticipare le mosse delle concorrenti e attrezzare una squadra in grado di lottare per i vertici. Il tecnico Bollini è stato chiaro nella conferenza stampa di venerdì quando ha affermato che in questo campionato ci vogliono calciatori di categoria, ma lo fu anche al suo arrivo quando affermò che i curriculum non servivano per primeggiare in un torneo dove bisogna essere molto pratici, concreti e poco spettacolari. Quella che si è appena chiusa, quindi, è stata l'ultima stagione per alcuni dei protagonisti in giallorosso. Calciatori che hanno deluso le aspettative, tormentati anche da guai fisici che hanno avuto riflessi determinanti sulle scelte degli allenatori. Il direttore sportivo dovrà puntare su giovani emergenti, carichi di entusiasmo e con tanta fame, un lavoro di costruzione che deve essere fatto in sinergia con il tecnico. E questo è stato una nota dolente dell'ultima sessione di calciomercato quando Tesoro Junior era impegnato a rinforzare la Rosa e Bollini a convincere lo tito a lasciarlo andare a Lecce.